Palla a volo c'è grande attesa per lo scontro diretto Salvezza che attende questa sera alle 20.45 al Palabarton. La Bartocini, i forti infissi, si perugia contro la Delta d'Espar Trentino. La squadra di Cristofani contro il fanalino di coda del campionato. Le due squadre sono distanziate da un solo punto anche se le magliette nere devono recuperare tre partite. Non può concedersi altri passi falsi. Due le ex di questa sfida, una per parte, Giulia Melli nelle file di Perugia e Ogo Straschi in quelle di Trento.